ciao a tutti ragazzi ricomi qua sono mega ticker due pacchettini come vedete molto simili b loader scritto da una parte b loader pro dall'altra questo prodotto ve l'avevo già recensito ho fatto vedere a cosa serviva e fatto vedere come si configurava sulla playstation e bene sia andate in alto a destra se vi interessa per avere più informazioni in merito quest'oggi però sono a parlare del nuovo prodotto in casa b loader il b loader come vedete pro si presenta ovviamente in una forma diversa perché il prodotto in questione implementa delle funzioni che la singola chiavetta ovviamente non aveva andiamo un attimo subito a far vedere cosa è presente all'interno della confezione così poi vi spiego un attimo e andremo insieme a vedere come si configura il tutto per far funzionare la nostra chiamiamo la chiavetta sulla playstation come vedete dentro la confezione non abbiamo altro che la chiavetta ecco la quina sua custodietta di plastica e sotto abbiamo due cavetti usb type c da una parte type a dall'altra mettiamo un attimo da a parte i cavetti andiamo a tirare fuori la chiavetta che dalle foto può sembrare una cosa piuttosto invasiva piuttosto grossa mentre invece guardate sta in una mano non è granché grossa è abbastanza leggera e adesso andiamo un attimo insieme a vedere tutte le entrate tutte le uscite tutti i tasti a cosa servono ebbene subito si vede che c'è un rotellone qua davanti e sì perché lei al contrario della chiavetta singola biloader supporta anche il collegamento e l'uscita quindi dell'audio tramite jack da tre mezzo quindi potrete sentire in cuffia comodamente l'audio della playstation con questa manopolina ebbene si alzate e abbassate il volume sulla parte frontale abbiamo come vedete l'ingresso usb normale per collegare in maniera cablata i controller che vorrete far funzionare su playstation vi dico già subito perché se ve lo dico dopo magari non ci siete arrivati a vederlo vi dico già che in questo momento purtroppo biloader sta avendo problemi in connessione appunto cablata quindi dovremo aspettare un nuovo firmware in questo video vi farò vedere soltanto i collegamenti wireless di vari controller xbox su playstation 5 andiamo ad ogni modo un attimo avanti con la presentazione nella descrizione del prodotto come vedete dietro abbiamo un ingresso ethernet andremo a collegare il nostro modem direttamente a questa chiavetta in modo da diminuire veramente al massimo il delay quindi l'input lag che si può creare utilizzando questa chiavetta vi ricordo che per poter utilizzare controller di terze parti ad esempio un controller xbox funziona anche con il bellissimo elite serie 2 sulla playstation 5 ebbene sì la biloader si è inventata tutto un sistema per cui fa credere alla console che stiamo giocando in remoto ma poi vi farò vedere nel dettaglio il funzionamento questo nella prima chiavetta poteva dare qualche problema di delay ma vi assicuro che con il collegamento diretto fisico dal modem alla chiavetta stessa il delay è veramente ridottissimo io non mi sono quasi accorto di nulla e quindi veramente veramente un'ottima soluzione per utilizzare i nostri prodotti preferiti su playstation 5 abbiamo poi due porte usb ovviamente tutte e due type c piccoline una da questa parte una da questa questa è quella che permette di veicolare l'audio attraverso appunto questa chiavetta mentre invece da questa parte abbiamo questa che serve per il collegamento della chiavetta al pc dopo di che serve per alimentare la stessa chiavetta non necessariamente da console ma anche da un caricatore esterno infine abbiamo i due pulsanti uno da questa parte e una da questa questo è quello che fa il pairing della chiavetta al vostro controller in modalità wireless mentre invece questo è il pulsante che vi fa accedere alle funzionalità le configurazioni della chiavetta stessa su pc pulsante che una volta poi configurato il tutto abilita la connessione alla playstation 5 facendo appunto simulando la connessione in remoto come vi stavo dicendo prima dopo questa lunga presentazione io direi subito di andare a vedere la configurazione molto semplice della chiavetta tramite pc per poi andarlo un attimo a provare insieme sulla console ebbene ragazzi prima di passare un attimo al computer mi porto qua davanti il mio hub usb collegato al mio pc perché poi andremo a configurare la chiavetta tramite porta usb e ci tenevo far vedere il collegamento e cosa succedeva alle lucine della chiavetta stessa ci trasferiamo poi come vedete sul sito biloader.com andiamo nella sezione download e andiamo a cliccare qui dove c'è scritto biloader pro software una volta cliccato ci ritroviamo in questa sessione del forum andiamo a cliccare su biloader pro software and manual come vedete è stato aggiornato il primo luglio del 2022 dovremo fare una registrazione eccomi qua megatica che si è registrato al loro forum per poter visualizzare la possibilità di scaricare il loro zip ciclico sopra ovviamente viene scaricato il loro zip qui sul vostro computer non dovrete fare altro poi che prenderlo dalla cartella di download io mi sono creato una cartella biloader pro l'ho messo all'interno e come vedete qua sotto l'ho già scompattato vi ricordo molto molto importante ragazzi dovete chiudere tutti gli antivirus presenti sul vostro computer io addirittura ho dovuto disinstallare il norton perché se no durante lo spacchettamento dello zip mi perdevo alcuni file assolutamente essenziali per l'installazione dei driver ad esempio come vedete questo manager driver for biloader pro.exe una volta appunto spacchettato torniamo un attimo indietro la cartella si presenta in questa maniera da una parte abbiamo il firmware dall'altra abbiamo il software pro con driver manager come prima cosa mi raccomando importantissimo andate a installare i driver sul vostro computer c'è anche una procedura come vedete che serve per installarli qualora proprio anche disinstallando i vostri antivirus non riusciste a farli caricare io non ho dovuto accedere a queste funzioni ad ogni modo ci clicco dentro come vedete c'è un exe e un immagine un jpeg che spiega come fare per tentare di installarli non è il nostro caso perché nel mio computer è bastato cliccare due volte sull'exe dirgli di sì ritrovarsi in questo benvenuti al driver installer a fare avanti ed ecco lì pronto all'uso che il driver è stato correttamente installato gli dico fine torno indietro e a questo punto riaccomi qua un attimo sulla scrivania vado a prendere uno dei due cavi usb type c lo vado a inserire nella parte come vedete qua c'è la porta ethernet lo vado a inserire da questa parte a questo punto ragazzi non dovremo far altro che tenere premuto questo tastino da questo lato prendiamo la nostra usb l'andiamo a inserire sul nostro computer ed ecco lì che vedremo questa lucina accendersi rilascio il tastino torno sulla mia cartella manager v1 biloader pro ci clicco sopra non vado nella sezione manuale ma vado in super manager v1.1 e lancio il mio bel exe ci ritroviamo in questa condizione dove probabilmente potremo un domani qualora fossero forniti dal biloader andare ad aggiornare la chiavetta ma ora invece dobbiamo andare a fare configuration qui ragazzi il passaggio che alcuni sinceramente giustamente anche hanno abbastanza dubbi in merito io mi sono fidato ho fatto da tempo questa operazione ad ogni modo dovremo andare a inserire i dati del nostro psn una volta entrati ci ritroviamo su sony indirizzo email per l'accesso al nostro id playstation gli dico next e ovviamente qua dovremo andare a inserire la nostra password una volta inserita schiacciamo qua sotto aspettiamo un attimino vedete sta lavorando dopodiché eccoci qua che ci catapulta in questa pagina bianca dove dovremo semplicemente andare a cliccare su questo indirizzo fare un bel ctrl c ed andare a cliccare qua sotto per creare il nostro id che adesso vi oscuro perché sinceramente non so se è proprietario o che altro ad ogni modo l'operazione dovete semplicemente farla in questa maniera adesso manca l'ultimo passaggio ossia dalla nostra console playstation 5 dobbiamo andare a creare quel link numerico per la connessione in remoto ok ragazzi mi sono trasferito alla mia console playstation 5 vado su impostazione sistema riproduzione remota e facciamo un bel collega dispositivo come vedete appare un numero dovrete semplicemente prendere questo numero andarlo a inserire nello spazio apposito del punto 3 dopodiché cliccare click save configuration saved successo ecco lì che vi sbatte fuori adesso la nostra chiavetta è pronta a essere collegata alla playstation una volta fatto questo staccate la vostra chiavetta dal computer abbiamo due possibilità possiamo andarla a collegare direttamente sulla console ma io per semplicità qua per farvelo vedere nel video lo collego a un alimentatore usb intanto appunto in questo momento avete solo bisogno di alimentare la vostra chiavetta una volta fatto questo andate a prendere un cavo ethernet collegato ovviamente allo stesso modern router che dà internet alla vostra console lo andate a inserire nella chiavetta ed ecco lì le luci arancione verde che stanno a indicare l'avvenuta connessione io a questo punto vado a cliccare il mio tastino sulla b loader e come potete vedere dopo un po che lampeggia mega ticker connesso mediante riproduzione remota sulla nostra console ovviamente ragazzi ricordatevi che questo passaggio che vi ho appena fatto vedere deve essere fatto all'interno di quel countdown che la vostra playstation vi dà quando fate la richiesta di collegamento dispositivo se finiscono quei 300 secondi rifate la procedura che avete appena visto del super manager vp1.1 reinserite il codice fornitovi dal playstation 5 e rifate questi collegamenti ma adesso le cose a noi sono andate bene come vedete lucina verde sta ad indicare che la mia b loader è collegata alla playstation 5 e quindi adesso come vi dicevo non posso farvi vedere la connessione cablata ma posso farvi vedere elite 2 alla mano come collegare appunto un controller xbox alla nostra playstation 5 a questo punto ragazzi non dovremo far altro che andare vedete tasto di accoppiamento lo andiamo a schiacciare lampeggia veloce di blu vado a prendere il mio elite 2 tasto di accensione tasto di accoppiamento luce veloce anche da questa parte ecco lì vibrazione il controller se già connesso alla mia b loader sono tornato alla mia console playstation 5 avviato il gioco che rappresenta maggiormente astro playroom il gioco proprio che faceva vedere le funzionalità del dual sense schiaccio un tasto del mio controller elite 2 gli dico continua ed ecco lì che in alto a sinistra come vedete dice di swipare con il nostro touchpad nessuna paura possiamo simularlo tenendo premuto questo tasto e di fatto muovendo ad esempio la levetta parlando a proposito di touchpad possiamo simulare come vi dicevo la pressione e lo slide basta tenere premuto questo tasto schiacciare ad esempio la levetta direzionale come vedete impartisco dei comandi touch sul mio touchpad sempre tenendo premuto questo tastino levetta analogica come vedete sto simulando le funzioni del touchpad anche per lo slide una volta fatta vedere appunto la funzionalità del controller associato bluetooth vi ricordo che potrete associare qualsiasi controller xbox ho qua lo scaf instinct pro perché anche lui adesso va cosa che con l'altra b loader purtroppo non andava potremmo quindi utilizzare lui che è un grandissimo bel controller potremmo utilizzare un controller playstation 4 originale così come potremmo utilizzare un controller pro di nintendo sinceramente non ne capisco l'utilizzo ma queste sono le compatibilità di controlli di terze parti tramite chiavetta alla nostra playstation 5 la chiavetta anche delle altre funzionalità che non vi faccio vedere in questo video ossia possiamo andare a controllare il rinculo delle armi a fare delle macro e altre piccole funzionalità magari farò un video dedicato per non rendere troppo noioso che già lo sarò stato questo adesso vi faccio soltanto vedere che se vorrete attaccare una cuffietta jack per sentire l'audio del gioco e comandare il volume tramite consolina dovrete andare a mettere la vostra type c da questa parte e questa volta si collegare questo alla playstation in questo modo quindi potrete andare a inserire un paio di cuffie direttamente qua jack da tre e mezzo non farete altro che fare il collegamento in questo modo io adesso ho un paio di cuffie originali e sony ma qualsiasi cuffia potrete collegarla alla vostra chiavetta e quindi sentire l'audio e gestirlo dalla manopola ebbene ragazzi io per questo video direi che vi posso salutare vi ho fatto vedere le funzionalità come funziona come si configura questo bellissimo oggettino che potrete andare a comprare sul loro sito be loader se il video vi è piaciuto ragazzi se vi è tornato utile ovviamente lasciate un like un pollicione iscrivetevi accendete la campanella se mi volete supportare i metodi sono tanti anche il super grazie che da un po è presente sotto ogni video dove potrete fare una piccola donazione per aiutare il canale di mega ticker a crescere per questo video è veramente tutto noi ci vediamo alla prossima qua e mega ticker e ciao Ciao